Barbara Lezzi Come potremmo riconsegnare il paese nelle mani di questa persona così scarsamente credibile? Parole che spiazzano, già proprio lei. Quella che con Salvini al governo ha fatto il ministro. Insomma, una politica di cui forse nessuno avrebbe mai sentito parlare senza l'esecutivo gialloverde, se non per le sparate San Lilva, per esempio. Parole, insomma, che spiegano meglio di mille analisi chi siano davvero i grillini. La deputata grillina ha rincarato la dose nei confronti del partito di Salvini, escludo qualsiasi ritorno con la Lega, per me sarebbe un dramma. Hanno dimostrato tutta la loro scarsa serietà. Infine l'ex ministro ha analizzato gli ultimi avvenimenti politici criticando Matteo Renzi e le sue dichiarazioni sulla popolare di Bari, dice bugie, come al solito, pronta la risposta della conduttrice, sta al governo con voi, non esageri. Punto. Infine ha voluto fare un appello sulla drammatica situazione dell'istituto di credito pugliese, voglio invitare tutti i politici alla cautela. Il ministro Boccia e il presidente Emiliano vantavano i bilanci della Banca Popolare di Bari. Il ministro Boccia e il presidente Emiliano vantavano i bilanci della Banca Popolare di Bari. Il ministro Boccia e il presidente Emiliano vantavano i bilanci della Banca Popolare di Bari. Il ministro Boccia e il presidente Emiliano vantavano i bilanci della Banca Popolare di Bari. Il ministro Boccia e il presidente Emiliano vantavano i bilanci della Banca Popolare di Bari. Il ministro Boccia e il presidente Emiliano vantavano i bilanci della Banca Popolare di Bari.